Ciò che mi è interessato subito della SUPSI è il fatto che riesco a conciliare sia la parte teorica che la parte pratica. Questo è ciò che ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta del mio percorso di studi. Mi piaceva qualcosa che fosse una via di mezzo tra un classico bachelor, quindi studiare, 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 ma anche l'opportunità di mettere le mani in pasta nel vero lavoro. La SUPSI punta a farci entrare nel mondo del lavoro il più preparati possibile, con conoscenze veramente ampie in tutti i campi. Sto affrontando la mia formazione in modalità part-time, perché ho una famiglia e accanto allo studio mi occupo anche dei miei bambini. Quando non studio e non lavoro gioco a hockey, gioco per le Ladies Lugano, un campionato di Serie A. È bellissimo il fatto che io riesco a continuare questa attività sportiva a fianco allo studio e alla mia carriera. Per conciliare scuola, lavoro e vita privata serve un po' di organizzazione, ma ponendosi degli obiettivi. Penso che a fine settimana ci si possa dire ho tempo per tutto. La formazione in SUPSI è pratica e soprattutto vicino allo studente, al territorio e alle aziende. Non siamo solo studenti per nostro conto, ma siamo proprio una comunità. La cosa che mi piace di più della formazione che sto seguendo è che non c'è un giorno uguale all'altro, non c'è una settimana uguale all'altra e non c'è un mese, non c'è un semestre uguale all'altro. Questa è la nostra formazione. E la tua?